Ciao, sei un docente? Sei un filmmaker? Hai fatto un video, un corto, un documentario, un'animazione, uno spot e vuoi farlo conoscere? On Air Festival, il vento che porta a Sorrento è il videocontest che fa per te. Il Festival è per tutti, scuole di ogni ordine e grado, filmmaker e appassionati di vertical video. Iscriviti al concorso entro il 2 febbraio 2019 e potrai vincere un meraviglioso soggiorno a Sorrento. Come partecipare? È semplice! Vai sul sito www.cmea.it, compila il form, aggiungi il link del tuo video e il gioco è fatto! On Air Festival è workshop, dibattiti, escursioni, laboratori, musica e spettacoli. Ti aspettiamo a Sorrento, la città del cinema ambientale fatto dai ragazzi per un'esperienza indimenticabile. On Air Festival e il tuo video ti porta a Sorrento!